Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quenti Channel Ok non siamo online ragazzi, in questo video ragazzi non giocheremo infatti online Ma come potete ben vedere siamo nella roulotte del casting della modalità regista con Michael De Santa In questo video ragazzi che non so se sarà l'inizio di un format o qualcosa del genere Sempre se sarà apprezzato da voi Andremo a cazzeggiare per la mappa di Los Santos nella modalità regista Per chi non lo sapesse cosa fosse questa modalità regista ragazzi E' una modalità che ci permette di poter gestire noi il tempo eccetera In modo tale da poter creare dei mini film come quelli che spesso vedete sul mio canale su GTA Allora, allora qui abbiamo un sacco di attori che possiamo scegliere Tra l'altro come animale ho sbloccato soltanto il gabbiano ma non ci interessano per adesso gli animali Andiamo ragazzi anzi a prendere il nostro personaggio dell'online Io ragazzi ovviamente mi metto l'invincibilità E iniziamo subito all'ora Allora ragazzi per chi non lo sapesse sulla modalità regista è possibile andare nelle zone Entrare negli edifici che nella realtà non sono esplorabili Che magari su GTA Online sono esplorabili tramite appunto l'utilizzo di un glitch Tipo per esempio posso entrare nella casa di Michael, nella casa di Franklin eccetera Magari per chi volesse esplorare edifici che magari online non può farlo Oppure magari perché non sa determinati glitch Tranquilli perché nella modalità regista possiamo tranquillamente farlo Allora mettiamo subito come impostazioni Mettiamo notte ragazzi Guardate che bella luna guardate che bella luna scordatevela perché adesso metteremo Fottutissimamente i tuoni Guardate creiamo proprio un'atmosfera stranissima su GTA Livello di sospetto vabbè lasciamolo stare Sgombra zona Sgombriamo la zona Attenzione Ok tutto isolato ragazzi Non mettiamo nessun tipo di veicolo in giro Densità pedoni No Ok ora ragazzi la nostra Los Santos È completamente isolata Non c'è nessuno ragazzi Sono tutti o dentro le case Oppure sono tutti morti ragazzi Non lo so Guardate Los Santos isolato Ora ci facciamo un piccolo giro per questa Los Santos Così a caso Abbiamo a disposizione l'AT20 Razzintorno Questi sono elicotteri Ok prendiamo l'AT20 Eccolo qua Mamma mia ragazzi Guardate Che senso di inquietudine proprio Non c'è nessuno ragazzi per le strade di Los Santos Siamo completamente soli Guardate ho tolto tutti i pedoni Che figata assurda è Ma che figata assurda è Tra l'altro sulla modalità regista ragazzi Possiamo anche avere Diciamo Gli animali Quindi se voi andate per esempio nel mare Ci sono squali Balene eccetera Mentre invece se andate per esempio sulle montagne Potete trovare lupi e quant'altro Ok Mamma mia Mamma mia che posto inquietantissimo Allora Oggi ragazzi nella modalità regista Faremo proprio sentire Da solo Il nostro personaggio dell'online Proprio lo faremo Morire di solitudine E già diciamo in un certo senso Mamma mia che spettacolo Già in un certo senso Sta morendo di solitudine In quanto come potete vedere Non c'è assolutamente nessuno Nella sessione Ma siccome io sono abbastanza bastardo Ho intenzione di portare Il mio personaggio In un luogo Abbastanza Oscuro Ovvero Lo porteremo Sul monte Cigli Altri ragazzi Vai Ci teletrasportiamo La Impostazioni E andiamo A No dove era Zona Ok meta Vai Trasportiamoci dove Abbiamo indicato Ovvero sul monte Pensavo fosse un UFO Quello là sopra Ho detto cazzo c'è l'UFO Perché siamo a mezzanotte Poi c'è la pioggia Invece no ragazzi L'UFO esce soltanto Nel single player Eccoci qua Ragazzi Nel ben mezzo Della solitudine Che figata Guardate Che figata assurda Ok Questo sarà un video No sense Molto probabilmente Ma è un video Così cazzeggiare Nella modalità regista Ok Quello È l'aereo Ragazzi Guardate che figata Che tra l'altro Possiamo guidare Nella modalità regista Quello è Los Santos Tensione ragazzi Mamma mia Ora dovete scrivermi Nei commenti Quanti di voi Vorrebbero stare lì In quella situazione Tra l'altro Ora la città di Los Santos È completamente isolata Tutte le strade Sono vuote Non possiamo trovare Nessun tipo di veicolo Non possiamo trovare Nessun tipo di pedone Siamo soltanto noi La nostra T20 Questo fantastico Temporale Estivo E soprattutto Ragazzi Gli animali Che brulicano Per tutta la mappa Di Los Santos E dintorni Ora però Facciamo una cosa Molto figa Ovvero Ci buttiamo Buttiamoci Come se non ci fosse Un domani Guardate che spettacolo Attenzione ragazzi Continuiamo a scendere Dal monte Come se non ci fosse Un domani Che cazzo è Girati Girati No No Siamo ancora vivi Ovviamente Non moriremo mai Perché abbiamo L'invincibilità Però vediamo Come si ridurrà La nostra T20 Ok Siamo a metà Ancora C'è tanta Strada da fare Tanta discesa Ancora Attenzione T20 Non mi morire Sul più bello Vai 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 Attenzione Attenzione Alpino Ok Ragazzi Ok Ci siamo Ci siamo Allora Come possiamo Far sentire ancora Più in solitudine Il nostro personaggio Di GTA Online Ovviamente Ragazzi Il nostro personaggio Di GTA Online Dopo tante kill Che ha fatto online Si è stufato Della gente No Un po' come tutti noi Quando Non vediamo l'ora Di andare in vacanza Oppure Quando per esempio Qualcuno ci sta sul cazzo O più di qualcuno Ci sta sul cazzo Diciamo Non vedo l'ora Di andarmene E soprattutto Non vedo l'ora Di mandare tutto a fanculo Voglio stare Nella mia Completa solitudine Ebbene Questa è la sensazione Che si sta sentendo oggi Il mio personaggio Il quale vuole Completamente Isolarsi Anche dal mondo stesso E Ok Intanto siamo scesi Allora Vediamo un po' Come possiamo far sentire Il nostro personaggio Proprio Ragazzi Nella merda Più totale E altro E oltre Nella merda Più totale Anche Nella Diciamo Solitudine Più totale Ok ragazzi Ho un'idea Veramente Veramente Magnifica Ora Teletrasporteremo Il nostro personaggio Nel mare Guardate Mamma mia Guardate che onde Ragazzi No bellissimo Tra l'altro Dov'è Los Santos Eccola Ecco Los Santos Ragazzi Non riesco più a vederla Quanto cazzo di schiuma fa Sto mare Tensione Eccola Los Santos Allora Facciamo una cosa Siccome il temporale Sta un po' diminuendo Facciamo Blocca tempo Nella notte Guardate ragazzi Che onde Guardate che onde Mamma mia Assurdo Assurdo Allora Proviamo Un attimo A fare una cosa Proviamo A cambiare Le condizioni Del meteo Mettiamo sereno Ah Ora si Che si vede bene Los Santos Ragazzi Prima con tutte quelle onde Non si riusciva a vedere Guardate lì Quanto siamo lontani Veramente Tantissimo Ragazzi Vediamo se Mettiamo nuvole sparse Cosa succede Ok Più o meno Nulla Ora è molto più figo Vedere da lontano Los Santos E tutte quelle luci Nuvoloso Ok Ok Già la cosa si fa Più brutta Ragazzi Già la cosa Si fa più brutta Offuscato Offuscato Più o meno Natale Attenzione Ragazzi Che figata Non c'è nemmeno Un'onda Non c'è un'onda Ragazzi Cosa stranissima In GTA Perché di solito Nel mare ci sono sempre Le onde Ok ragazzi Abbiamo scoperto Il modo per avere Il mare sempre calmo Mettete La condizione Meteo Natale Ovvero la neve Guardate Che figata Tra l'altro Non si riesce A vedere più Los Santos Cioè Siamo persi Nel nulla Ragazzi Siamo persi Nel nulla Non si vede più La città Non si vede più Niente Lì in fondo Si vede qualcosa Di qualche luce Pixelata Ma proprio Qualche flashata Ora non si vede Neanche più Dunque Si Los Santos È da quella parte Come potete vedere Ci sono delle piccole luci Pixelate così Come potete vedere Ragazzi Non c'è nulla Siamo proprio Nel ben mezzo Del nulla Ok Credo che Abbiamo soddisfatto Il pensiero Del nostro personaggio Ovvero quello Di essere Nella più completa Solitudine Tra l'altro Sicuramente Ora starà sentendo Un casino di freddo Con questa neve Allora Proviamo a cambiare Meteo Anche perché Ragazzi Ci teniamo Al nostro personaggio No Non facciamolo Stare proprio Nella merda Più totale Smog Ok Ora si rivede Di nuovo Los Santos Tra l'altro Una cosa positiva È che Non ci sono ancora Squali Qui vicino Quindi Per fortuna Non siamo Attaccati ancora Dagli squali Ok Come potete vedere Ci sono sempre Le onde Ragazzi Ma se mettete La neve Le onde Scompaiono Quindi se volete Nuotare Tranquillamente Nel mare Senza neve Cioè Senza onde Vi consiglio di prendere Appunto in considerazione Quel tipo di condizione Meteorologica Poi c'è la pioggia E poi ovviamente I tuoni Ok Adesso proviamo Ragazzi A vedere Attenzione Un fulmine enorme Quanto sott'acqua Possiamo andare Qua ragazzi Stiamo entrando Negli abissi Proprio nel nero Guardate Ma dove cazzo Siamo finiti Ragazzi Dove cazzo Siamo finiti Vediamo fino a quanto Può resistere Il mio personaggio Guardate Guardate Che figata No Bellissimo Ragazzi Bellissimo Siamo proprio Sotto l'oceano Pacifico Proprio nel ben mezzo Degli abissi Acquatici Ok Intanto il mio personaggio Non sta morendo Quindi molto probabilmente Resiste Non lo so Andiamo ancora giù Andiamo ancora giù Guardate quanto siamo Proprio in profondità Non riesco a capire Se sta ancora andando Giù o meno Sinceramente è tutto buio Quindi non si riesce A capire un gran che Comunque continuiamo Il mio personaggio Ancora sta andando Guardate È tutto nero Ragazzi Ok Attenzione Stiamo perdendo vita Stiamo perdendo vita Sali 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 Non sale Ok ragazzi Ok Ok C'è un limite C'è un limite La pressione è troppo alta Distrugge anche l'invincibilità Ok Allora facciamo una cosa Guardate Guardate che Che ambientazione Ragazzi Veramente bruttissima Allora Facciamo una cosa Teletrasportiamo Il nostro personaggio Ok Stiamo Teletrasportando Il nostro personaggio Ovviamente Dobbiamo farlo sentire Ancora In solitudine Ragazzi Quindi Dove lo possiamo Teletrasportare Secondo voi Beh Al faro Non c'è luogo più bello Che il faro Allora ragazzi Ora vi voglio mostrare Anche una cosa Fighissima Che ho scoperto Recentemente Tra l'altro Allora innanzitutto mettiamo Un bel tempo Mettiamo sereno Va basta Con questa pioggia Alla pace Di tutti noi Ragazzi Cioè io trascorrerei Una bella nottata Anche una bella settimana In quella casa Qui Nel mezzo del nulla Allora Guardate ragazzi Posso cambiare Manualmente Il tempo Cioè lo posso Velocizzare Guardate che figata Ora facciamo diventare Subito luce Ok Guardate ragazzi Il sole come si muove Guardate le nuvole Che figata assurda Ok Lasciamoci così All'alba Allora Io direi Che No non ti buttare Ok siamo vivi Direi che abbiamo sofferto Abbastanza la nostra solitudine E quindi ragazzi Ora si ritorna a fare Baccano Su GTA Ma ovviamente Siamo nella modalità regista E quindi faremo Baccano nella modalità regista Quindi dove possiamo fare Maggiormente Baccano All'interno Di Fort Zancudo Che voglio Tra l'altro Entrarci Con una T20 Ok Vai 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 No Si Ok Siamo all'interno Dai siamo all'interno Abbiamo Come potete vedere Quattro stelle Però siamo invincibili Quindi Che cazzo Ce ne frega Allora Il nostro obiettivo È quello di entrare All'interno Della torre Però ovviamente Voi direte Eh vabbè Ma è semplicissimo Hai la vita infinita Cioè L'invincibilità Eh E questa è la cosa bella Ragazzi Perché adesso Ce l'andremo a togliere Ok Non abbiamo più invincibilità Quindi siamo Fottutissimamente Nella merda Allora Spero soltanto Di non trovare Un carro Armato Ok Ecco la torre Il nostro obiettivo È salire Sopra la torre Ragazzi E questo È il nostro obiettivo Poi possiamo anche Tranquillamente Lasciare Fort Zancudo Allora Dov'è che si entrava Di qua Vai Prendiamo Tutto quanto Fucili Robbe del genere Attenzione Non c'è Nessuno Strano Attenzione Vai 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 Su per le scale Su per le scale Ok Attenzione però Ha gente che entra Ok ragazzi Siamo nelle scale Della torre Di Fort Zancudo Ok Come vi ripeto Non siamo più invincibili Quindi abbiamo Come potete vedere Metà Quasi Metà vita Potremmo morire Da un momento All'altro Ok ragazzi Siamo arrivati Ad un piano Attenzione Vediamo qui Se c'è qualcuno Ok Ma mai fidarsi Ragazzi Mai fidarsi Perché qui ci sarà Sicuramente Qualcuno No Questa è la sala Diciamo Controlli Non lo so E non c'è Nessuno Attenzione Dove cazzo stanno Allora sopra Ragazzi Questi bastardi Si nasconderanno Sopra Sicuramente Ok Ok Sicuramente Mi stanno aspettando Come se non ci fosse Un domani Dove siete Bastardi Dove siete Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ragazzi Tutto abbastanza Semplice Che cazzo è Tutto abbastanza Semplice Però sono Nella torre Quindi molto probabilmente Stanno salendo Ok ragazzi Il nostro obiettivo È cambiato Come siamo entrati Così dobbiamo uscire Quindi il nostro obiettivo È andare fuori Fort Zancudo Eccoli Eccoli I militari Eccoli qua I militari Attenzione Cazzo 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 Aiuto 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 Nasconditi No Merda Mamma mia Mamma mia Come gli ho Shottati Proprio No 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 Ho bisogno Qua non posso Prendere snack Che cazzo Ho bisogno Ok abbiamo Pochissima vita Ragazzi Dobbiamo raggiungere Almeno la nostra auto Aiuto Questo sta entrando Questo sta entrando Ragazzi Questo sta entrando Ok E' morto E' morto Questi stanno Prendendo fuoco No La mia T20 La mia T20 Ragazzi La mia T20 Ragazzi No No Sono nella merda Sono nella merda Ragazzi Sono morto Sono morto Sono stramorto La mia T20 Sta andando a fuoco La mia T20 Sta andando a fuoco No Non ci posso credere Ok Non ce la farò mai E poi mai Ragazzi Uscire da Fort Zancudo A meno che Non ci sia un miracolo Di Gesù Ok Abbiamo preso il veicolo Militare Ma non ci salverà Non ci salverà Ora la vera domanda E' come cazzo usciamo Da Fort Zancudo Con un veicolo Ragazzi Che qui è tutto ricintato Io forse Una mezza idea Ce l'avrei Non so se funzionerà O meno Vediamo un po' Vediamo un po' Cioè Siamo passati In questo video Dalla calma Al Devasto Più totale Vai Sì No Non lo so Non lo so Se adesso si può uscire Non lo so Se adesso si può uscire Comunque siamo a buon punto Siamo ad un buon punto Mi hanno perso Sulla minimappa Ok Mi hanno perso Sulla minimappa Ragazzi Forse siamo ad un buon punto Forse siamo ad un buon punto Forse no Ok ragazzi Ecco qui l'uscita Ecco qui l'uscita Attenzione Ok Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ok ragazzi Siamo fuori Fort Zancudo E adesso Possiamo anche Toglierci Il livello Di sospetto Ok ragazzi Eccoci qua Finalmente Con il tramonto Ora Dobbiamo mettere ancora Ragazzi La densità Dei pedoni Aspettiamola Alta Ecco qua Finalmente Gente Ragazzi Ah guardate Che è più bello Lo Santos Con la gente Ok Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Un video Diverso Dal solito Ragazzi Avevo voglia Di cazzeggiare Come potete vedere In questo video Abbiamo inizialmente Ragazzi Cazzeggiato Così A caso Per la mappa E poi abbiamo fatto Una seconda parte Tra virgoletti In cui abbiamo Veramente fatto La devastazione A Fort Zancudo Questo perché Perché voglio Che Mi fate sapere Nei commenti Innanzitutto Se questo genere Di video Vi piace Ovvero Cazzeggiare Nella modalità Regista E poi Voglio sapere Se volete vedere Un altro video Del genere Che tipo Di video Volete vedere Un video In cui faccio Casino E faccio Bordello Oppure Un video In cui Andiamo A mettere Nelle condizioni Veramente Estreme Il nostro Personaggio Tipo Stavamo Ragazzi Lì In alto Mare Proprio Fatemelo Sapere Nei commenti Ovviamente Io Vi saluto E non ci vediamo Al prossimo video E ciao A tutti